Io ripeto, te la dico forte, nuova era è poco, per me il Napoli all'anno zero, che poi è anche comprensibile perché noi siamo cresciuti, cioè la generazione del Napoli, di quelli che seguono il Napoli, è cresciuta con l'ossessione di vivere quello che hanno vissuto i loro genitori. Quindi finalmente l'hanno vissuto, citando Capuana per una cosa raccoglata, e quindi è giusto anche che sia un, ma anche noi, se ci fate caso, pensate se il Napoli avesse venduto Kim un anno fa, portate Kim un anno fa e lo vendi, ma chi l'avrebbe accettato? La Klaus, il Baer Mono, oggi è venuto venduto Kim, nessuno ha detto una parola. Ripeto, questo è ancora l'effetto scudetto. Solo per la Maglia Benvenuti o bentornati a Solo per la Maglia, un podcast che è arrivata all'ultima puntata della prima stagione, quindi oggi non vi chiedo niente, vi vogliamo solo ringraziare per averci seguito, per averci supportato, e vi chiediamo di farlo ancora, perché oggi è l'ultima puntata, ma torneremo con la nuova stagione presto, e continueremo a postare contenuti speciali sui nostri social. Solo per la Maglia è un podcast che parla di calcio, amore e passione, per i nostri colori, ma soprattutto per la nostra Maglia. E a proposito di Chiama la Maglia, ho il piacere di presentarvi il nostro host, del quale potranno anche toglierci la voce dalle nostre orecchie, ma non la toglieranno mai dal nostro cuore. Carmine Martino La voce del cuore è qui, ciao a tutti, ancora benvenuti a un nuovo appuntamento, saluto ovviamente Stefano, e do anche i miei saluti all'ospite di questa ultima puntata prima delle vacanze estive. E la cosa bella è che possiamo parlare del Napoli Primavera, possiamo parlare della prima squadra, possiamo parlare dello staff tecnico, possiamo parlare anche dell'ultimo magazziniere del calcio Napoli, possiamo parlare del panorama giornalistico, dai siti social del più sconosciuto al più conosciuto, dei giornali, delle radio, delle televisioni, e lui sa tutto. E la cosa incredibile è che è giovanissimo, non so come ci sia riuscito e come faccia, ma è così. Ciao Ciro Troisa Mi ha registro questa presentazione, in giro per la rivendo, diciamo. È la verità Ciro. Grazie, grazie mille. Tra l'altro guadagnata sul campo, perché tu sei uno di quelli che hanno interpretato questo mestiere così come si faceva un tempo, così come ho iniziato io del resto. Pedalando, camminando, andando in giro per i campi, anche quelli di serie minori per fare esperienza, per conoscere gente e tutto quello che c'è intorno. C'è il collega Maurizio Niccita della Gazzetta che mi prende in giro dicendo che sei un giovane vecchio. Pensa che mi offendo, invece per me è un grande complimento, anche perché ho la scuola di mio padre e da lì l'ho presa. E per me il mestiere si fa così. Poi ovviamente lo devi portare nell'epoca moderna, lo dimostra anche dove e come siamo messi adesso in questo momento. Però l'anima è quella lì, di andare a macinare le famose scarpe che ci avete insegnato voi della generazione precedente. Sì, io poi mi occupo anche di cronaca e per esempio anche nella cronaca secondo me è fondamentale andare sul posto dove è avvenuto qualcosa di brutto, una tragedia o cosa del genere. Devi renderti conto della realtà con i tuoi occhi per poterla descrivere meglio. Sì, perché anche a differenza del modo in cui siete cresciuti voi, soprattutto nello sport oggi, ahimè, si fa tanto attraverso la mediazione. Esatto. Il profilo Instagram del calciatore, l'ufficio stampa, anche se purtroppo soprattutto nel calcio vedi più gente che cerca di ostacolare il lavoro. Cioè è un ufficio a favore delle società, non a favore della stampa, ma non per colpa di chi lo fa, perché così è strutturato, così lo vogliono. Cioè, però molto mediato, il dirigente, la fonte, è difficile fare quello che facevate noi, no? No, è vero, hai ragione. A me quando sento parlare di voi, dicono, andavamo a Soccava, parlavamo con Maradona. Ma che mondo è questo qui? È così, hai perfettamente ragione. Oggi è molto più difficile, forse un po' più comodo, non per Ciro, sia ben chiaro, per qualcun altro, perché se ne sta tutto il giorno, e non deve essere comunque piacevole, davanti a un pc chiuso in una stanza, con il telefono, a fare tante chiamate. Invece, per esempio, tu hai parlato di Soccavo, al centro paradiso di Soccavo abbiamo trascorso giornate intere che non finivano mai, avendo però la possibilità, non solo di vedere il più grande calciatore di tutti i tempi, ma di seguire tutto quello che accadeva, e quindi di parlare anche a volte di situazioni che succedevano, anche di litigi clamorosi, che altrimenti non sarebbero mai stati raccontati, perché oggi, per esempio, agli allenamenti non si può entrare. No, sì, assolutamente, infatti sembra un mondo di... alla fine sono una trentina d'anni, che dici, vabbè, trent'anni, non sono né pochi, ma non sono tantissimi, cioè, dici, sembra invece un'altra epoca storica, proprio. È vero, hai ragione. Sì, sembra un mondo, sai, quando ti parlano del cinquecento, del seicento, e trent'anni sono trent'anni, perché lo sappiamo benissimo, visti i trentatré anni tra uno scudetto e l'altro, però è la portata, è la differenza storica di come si viveva il mestiere, diciamo, ai vostri tempi, uso questa espressione qua, un po' infelice, rispetto ai nostri, è più grande dei trent'anni, cioè, sembrano di più, perché è proprio un'altra cosa, sotto tutti i punti di vista, nel bene, nel male, senza voler fare le differenze, però è proprio un'altra, un'altra situazione. Infatti, io amo i ritiri, perché è l'unico momento in cui almeno un po' di contatto ce l'hai con il mondo Napoli, cioè, vedi qualche allenamento, ti devi accontare di quella presa in giro durante l'anno dei 15 minuti concessi dalla UEFA, che servono più per le tv, per fare qualche immagine, ma poi, dall'altro, gli allenatori sembra proprio che ti vogliono prendere in giro, che fanno fare il torrello. Esatto, non ti fanno vedere niente. Sì, vedi, poi è strano, perché ogni generazione ha le sue situazioni. Noi ci lamentavamo, all'epoca, perché avevamo degli spazi limitati, perché i colleghi precedenti, i nostri, i miei maestri, mi raccontavano che loro entravano addirittura negli spogliatoi, alla fine di un allenamento o di una gara, e parlavano direttamente col calciatore, insomma, con l'uomo partita, senza problemi lì, a caldo, cosa che per noi sembrava impossibile. Quindi, per esempio, quella calca che si creava sotto il garage di Maradona, via Scipione, capisci, oggi non potrebbe più essere... Ma, quello non lo so, perché poi, se vai a vedere, sono tanti giornalisti. Quello, sì, al centro paradiso di Soccavo, soprattutto, sì, a volte Carlo Iuliano, l'addetto stampa dell'epoca, faceva i salti mortali per tenere tutti quanti sotto controllo, e ci riusciva, però. Sì, io facendo parte della generazione Benny Carbone, chiamo io, oppure il sottotitolo della generazione, tu non puoi capire, che quante volte l'hai sentito, non puoi capire, ho visto tutti i filmati possibili e immaginabili, e c'è un filmato su YouTube, c'è il collega, il fotografo Pietro Musca, del Corriere dello Sport, che è molto divertente, c'è Maradona che va nella TV, Svizzera, mi sembra, ehi, baffetto, la prossima volta sotto casa mia. Pietro riesce a rispondere in un modo che io mai penso ci sarei riuscito, forse perché loro erano abituati a Maradona. Perché Maradona l'aveva beccato sotto casa sua che gli faccia degli scatti. Io faccio il mio lavoro, tu fai il tuo. Io penso che mai nella mia vita avrei potuto rispondere così, con questa fermezza, gli ho sempre fatti complimenti per la risposta professionale data a Maradona, che è a bordo campo, mentre fa il suo riscaldamento, che era un'opera d'arte, no? Sì. Palleggia, colpi di tacco, cose che solo a guardare ti vengono i brividi, lui va da Pietro e dice, ehi, baffetto, la prossima volta sotto casa mia. Lui riesce a rispondere in modo molto professionale. Ebbè, Pietro, sì, Pietro in effetti aveva fatto qualche scatto un po' così sotto casa Maradona, cogliendolo, diciamo. Penso che seguire Maradona era la vostra principale attività. Sì, anche se era impossibile, però sì, era quello che facevamo. Ed erano turni estenuanti, perché iniziavi e non sapevi quando finivi. Ma veramente con colpi di scena clamorosi che arrivavano da un momento all'altro. E non sapevi mai quando chiudere il pezzo, perché magari arrivavi alle 10 di sera con il Napoli che era partito per la trasferta e tu dicevi Maradona non è partito. Poi improvvisamente vedevi che dopo mezz'ora la sua macchina usciva e magari raggiungeva la sede del ritiro della squadra a Milano, in un altro posto, insomma. Quindi veramente un lavoraccio. A proposito di ritiro, io farei qualche domanda su Di Maro. Tu sei appena tornato praticamente. E sei anche in partenza per Castel di Sangro. Come l'hai avvertito il clima della squadra? A pelle, come l'hai sentito? No, è un altro club. Cioè è l'anno zero. New Era is coming è poco, come slogan. È l'anno zero. Sul marketing non si offenda nessuno prima. Probabilmente l'evoluzione naturale. Tu dici, ma questi sono quelli di prima? Appena già tu arrivavi a Rosatti, Carmine pensato, ricordi, no? Scritta bruttina di qua, scritta bruttina, qualche insulta equaimica ancora preesisteva. Ora tutto con il tre, lo scudetto, l'area marketing è l'area più corposa. Io ad occhio ho contato che sono il triplo rispetto all'area tecnica. E questo ti fa capire quanto si è puntato sul marketing. Tommaso Bianchini ha fatto una rivoluzione totale, ma anche Valentina De Laurentiis. Lo store, lo store era abituato a una casetta, ora invece un bello spazio. Il materiale tecnico, anche ascoltare cose che abbiamo detto insieme ai tifosi per anni. La campagna abbonamenti è fenomenale. Io l'ho letta cinque volte pensando che fosse uno scherzo, e invece era tutto vero. Il cambio utilizzatore sempre è una cosa sociale, che abbiamo detto per anni, perché oggi quando il tifoso nel Napoli non sa quanti giorni dovrà andare allo stadio, se gli giocherà di venerdì sera, di sabato sera, non è più come la domenica alle 14.30, la domenica alle 15.00. Perché era l'appuntamento sicuro. Ed oggi Napoli è una città dove si lavora tantissimo il ristorante, la pizzeria, il commercio. Quindi tu non sai quante volte potrai andare allo stadio. Avere il cambio utilizzatore sempre, per uno che spende tre, quattrocento, cinquecento euro, a scatola giusa. Perché ora è bello, ma l'anno scorso, per esempio, i suoi eroi, quelli che hanno fatto l'abbonamento, è una cosa sociale importante, perché tu dici, vabbè, è incita anche a farlo l'abbonamento. Che ci dice, se non posso andarlo da mio fratello, mio cugino, mio amico, e quindi veramente un salto in avanti clamoroso. Poi, sotto il profilo del rapporto con i tifosi, anche lì è molto più che l'anno zero. Cioè, io mai nella mia vita avrei pensato di sentire la frase noi ci fidiamo del presidente. Cioè, quella vale più dello scudetto. La sua vittoria più grande è stata quella lì. perché se avessi vinto lo scudetto, senza fare alcune cose fondamentali, che abbiamo invocato per mesi e mesi, ci ha fatto rovinare il fegato prima di farle, non sarebbe accaduto quello che sta avendo. Cioè, non sarebbe potuto andare liberamente in giro per Di Maro. Dice, vabbè, non sa. Chi c'era l'anno scorso, sa. Io l'ho visto, il primo giorno di Di Maro, l'ho visto l'ultimo di Castel di Sangro. Cioè, io per 20-25 giorni non l'ho visto. e non ricordo un'intervista fino alla sosta mondiale, forse anche qualcosa dopo, sua. In me ci ha fatto anche lo steward. Sì, come lo fatti. Avevano fatte entrare i tifosi. Sicilio, ma è legato ovviamente allo scudetto, perché poi il tifoso si fa influenzare molto dai risultati. Quella a Napoli è una cosa molto più grande di quello che è. Però per me è anche il come. Perché se Napoli avesse vinto lo scudetto col clima del 2 aprile, io sono sicuro che sì, ci sarebbe stato l'applauso, ma non l'abbraccio col Presidente. Oggi il Presidente e i tifosi del Napoli hanno fatto un patto. Un patto, ci sono abbracciate, cosa che non era mai accaduta prima. Perché poi il Napoli le cose le ha fatte. Il Napoli ha fatto quattro secondi posti, ha detto tre Coppa Italia, una Supercoppa. Però mancava sempre qualcosa. Sì, mancava la cosa più importante, l'ossessione. Sì, l'ossessione, quella era diventata un'ossessione. Non ci venivamo in giro. Anche lo stadio non era mai pieno, anche quando la squadra andava forte. Sì, però quello, a parte lo scudetto, che è fondamentale, per me c'è una parte successiva, che è il venirsi incontro. Togliere quell'atmosfera, quella comunicazione, io so io e voi non siete nessuno. La pizza, vi siete ingolositi. Quindi tu dici che anche il Presidente è cambiato. È venuto incontro. Poi cambiato non lo so, perché non so quando si possa cambiare a 74 anni. No, perché questo è interessante. Però sicuramente lui oggi dialoga con gli Ultras, cosa che capita in tutte le società del mondo, chi lo fa vedere e chi non lo fa vedere. Cosa che il dialogo con gli Ultras era scomparso dai tempi della Serie B, credo. Certo. No, no, no. Oggi fa gli abbonamenti... Ragazzi, parliamoci chiaro. Sette, otto mesi fa ti dicevano della Vrentis che il Napoli vince lo scudetto e non aumenta i prezzi sugli abbonamenti. Anzi, costruisci una formula per cui tu, addirittura col full, con 18,90 euro di media, ti assicuri anche un eventuale Napoli-Real Madrid. Tu ci credevi? Io no. No, infatti. E questo ti fa capire che c'è anche del suo, c'è anche del aver capito... Lui, secondo me, non aveva la percezione di cosa significasse vincere a Napoli. Questa l'ho pensata anch'io. E in più, lui ha amato... Probabilmente non si aspettava quello che è successo con la conquista dello scudetto. Quindi ha mitigato un po' la sua comunicazione, che comunque ha delle caratteristiche particolari, però un po' la mitigata... Essendo attratto dal Consiglio, lui ha sognato tutte le notti, secondo me, di scendere in campo, avere l'applauso... Lui non aveva mai avuto un applauso. È vero. Cioè, come... Lui, fino alla festa scudetto, non aveva... Un po' forse quando presentò Iguain, se vi ricordate. E quando presentò... Sempre roba... Il giro di campo... Non l'apprezzamento di dire... Gli striscioni grazie al presidente dei quartieri popolari. Ah beh, questo sì. Ah beh, ma con lo scudetto... Sì, e lui, secondo me, essendo poi amando l'applauso, il sentirsi il re, che anzi, lui ha fatto le riunioni sull'ordine pubblico, le conferenze dietro col prefetto e col questore, cioè ha fatto cose... Io non ricordo un altro presidente. No, no, no. E quindi, essendo diventati il re, perché il Napoli è l'unica città d'Europa, a mia memoria, che ha una sola scuola di calcio. E il Napoli è la stessa cosa. Cioè, c'è un rapporto simbiotico. Quindi, se tu vinci a Napoli dopo 33 anni, senza Maradona, quindi con... Hai preso la città. E quindi, lui, amando questa cosa, ora se la vuole difendere. È difficile, secondo me, che farà degli errori nei confronti della gente. Li può fare con i calciatori. L'ultima alla presentazione, dove ha tirato fuori la... La trecciatina. Sì, anche perché qualcuno se la deve prendere. Noi, i giornalisti, siamo il nemico numero uno, il bersaglio preferito. Poi, se non... Con i tifosi, ormai c'è questo rapporto, è approvato a stimolare, diciamo, mettiamola così, i calciatori. Però io vedo un cambiamento epocale, complessivo, nel rapporto tifosi-squadra e nella presentazione del Napoli. Cioè, nella presentazione dell'azienda Napoli, che è completamente diversa rispetto a prima. C'è stato, quindi, finalmente, quel salto di qualità che aspettavamo da anni. Perché è da anni che il Napoli aveva un'immagine nel mondo che era diversa, poi, rispetto alla realtà di una società che forse era strutturata in maniera, diciamo, inferiore rispetto alle aspettative. Sì, è riuscire a darsi un volto il Napoli. Un volto, poi, finalmente, anche i contenuti social, sono... i legami con Napoli. Cioè, vedi, citate le canzoni di Pino Daniele. Io non voglio fare sempre quello del ricordo del passato, ma ti ricordi che portava sfortuna Pino Daniele? Eh, un tempo sì, si diceva. Quindi, è cambiato tutto. Possiamo dire che il cambio c'è stato proprio con l'arrivo dello Scudetto e con la festa Scudetto, per come è stata organizzata. La prima, la prima, la prima. No, no, io dico la prima, quella sul campo. La rivoluzione, la vittoria che è fondamentale, ovviamente, la rivoluzione accade nella settimana di Pasqua, tra il 7 e il 15 aprile, tra Lecce e Napoli, Milan-Napoli, l'incontro con gli Ultras, lo stadio che torna ad essere stadio, e poi un'escalation. Napoli-Salernitana, quella è stata la svolta, quella è stata la svolta. Però il cambio di immagine che io, almeno personalmente, ho notato è con l'organizzazione di quella festa, dove Napoli ha dato una dimensione davvero internazionale a tutti quanti. Le passi per la comunicazione visual che sta usando adesso, che è molto importante. Come dicevi, sui social, al giorno d'oggi, la comunicazione di primo impatto è il visual. Quelli là, bravi, la chiamerebbero campagna di marketing integrata. Integrata, come? Quella comunicazione integrata tanto cara. Vedi anche la presentazione sulla nave, no? L'ha fatta già, mi ricordo, la famosa Coniller, la sobrietà, il filo rosso, l'attenzione ai contenuti, anche il fatto che leggeva un discorso della Venti. Esatto, quello mi ha colpito. Sono tutte cose nuove. Poi il personaggio è sempre quello. Appena esci fuori, tira fuori la provocazione e quant'altro. Però si vede che è un altro club. Io, ripeto, te la dico forte, nuova era è poco. Per me il Napoli è all'anno zero. Che poi è anche comprensibile perché noi siamo cresciuti, cioè la generazione del Napoli, di quelli che seguono il Napoli, è cresciuta con l'ossessione di vivere quello che hanno vissuto i loro genitori. Quindi finalmente l'hanno vissuto, citando Capuana per una cosa raccoglata, e quindi è una... È giusto anche che sia un... Ma anche noi, se ci fate caso, pensate se il Napoli avesse venduto Kim un anno fa, portate Kim un anno fa e lo vindi, ma chi l'avrebbe accettato? La Claus, il Baer Mono, vabbè, oggi è pensato che è venduto Kim, nessuno ha detto una parola. Ripeto, questo è ancora l'effetto scudetto. Sì, io non so all'epoca... Sono d'accordo con te. Non so all'epoca se c'era la stessa situazione, nel 87 e nel 90, però... No, io ritengo che l'effetto scudetto ovviamente ti crea queste situazioni. Ovviamente quello che tu hai descritto fa parte della realtà ed è inconfutabile, hai perfettamente inquadrato la situazione. Per il resto direi che quel tricolore che è uscito sulla maglietta... Non vince a Frosinone, già il prima canto. Capito? Questo è il discorso. Il calcio è quello lì, vuoi fare tutto il marketing che vuoi tu. Esatto, perché già il pareggio 1-1 tra Napoli e Spal ha fatto, diciamo, incavolare qualcuno. Pochi, sia ben chiaro. Però... Quello mi sembra un po' ridicolo perché... Certo. È il caso, perché il Napoli ha creato almeno 8-9 palle Poteva finire 4-1 5-1 Poteva prendere la traversa, Olivera un ricorre in movimento, 2-3 con Osimen, cioè li ha presi a pallonare, poi quella che ha tirato fuori il gol della domenica ed è finita 1-1. Più che altro l'analisi giusta è sul primo tempo che invece non mi è piaciuto. C'è la differenza tra il primo e il secondo tempo è stata notabile. Cioè, quei 5-6 continuano ad essere degli uomini stracali. Guarda che la differenza la fanno i giocatori e il Napoli oltre a Kim e Osimen, c'è anche altri 4-5 che sono di un livello eccezionale. Sì, di Lorenzo, di Salombo, bravissima, eh, vi stai dicendo tu, Guaraschelia, lo stesso Raspadori. Io ho scelto pure in Gelischia. Bravo, non lo dite a me che io sono sempre stato un suo grande estimatore. Abbiamo parlato quindi dell'immagine del club e del presidente dei Laurentiis e che cosa è cambiato a Di Maro con Garzia e dal punto di vista tecnico? È ancora presto forse per dirlo. No, no, qualcosa si è visto. Ho visto anche lì un'altra dimensione. No, no, ovviamente, fortunatamente per il Napoli mi sembra uno furbo quindi che parte da quello che ha trovato. Cioè, l'impianto è quello piano piano ci mette del suo. la più grande differenza e questo sono curioso di vedere gli effetti durante la stagione è sulla preparazione atletica. Esatto, stavo per farti questa domanda. andato via Asinatti c'è Rongoni che sta con lui dal secondo anno della Roma e ho visto molto lavoro a secco ma che non ero abituato a vedere. Infatti, i giocatori si sono stancati anche tanto. Sì, l'allenamento a piedi scalzi e piedi nudi tanto lavoro a secco mentre con Spalletti si faceva subito pallone la famosa preparazione aerobica. Questa è la più grande differenza. Tutto il profilo tattico ci ho visto un paio di cambiamenti ma proprio per cercare quel poco che si può migliorare per esempio Quaraschelia protagonista assoluto sulle palle inattive tirava tutto lui con la Spall calci d'angolo punizioni una ricerca più costante dell'attacco in ampiezza sulle catene laterali cioè con l'esterno alto che viene incontro e quello basso che percorre il binare sotto a sinistra con Mario Lui con Sandro Cosimena ha fatto nove gol di testa può essere un'arma importante questa qui per magari contro le squadre che si chiudono un po' di più e dentro non riesce a sfondare centralmente può essere una soluzione ma giusto queste due cose poi in certi momenti una ricerca ancora più frenetica del movimento senza palla nella costruzione cioè non solo i centrocampisti ma anche gli esterni che si muovevano alla ricerca di nuove linee di passaggio perché poi hai la necessità di non essere prevedibile perché se gli altri dicono fanno questo fanno la stessa cosa l'anno scorso poi diventi prevedibile però l'impianto tattico è quello là anche perché Spaletta ha fatto un nuovo lavoro sarebbe assurdo anzi secondo me dell'Aurentis che tutti ogni tanto pensano di lui se questi 19 anni ha sbagliato poco qualche capacità la deve anche su questo non c'è un break lui secondo me ha scelto uno così ha preso uno con l'obiettivo di non prendo nessun fenomeno tra virgolette ma uno che si catapulta cioè per esempio Garzia due anni fa nella ricostruzione post Napoli Verona avrebbe fatto fatica sono convinto oggi può essere l'uomo giusto perché due anni fa ci voleva un fenomeno l'ha trovato meno male i due anni fermi del che poi è riuscito a motivare l'ambiente non dimentichiamo le pettorine con le fralsi sembrano socchezze ma invece dentro e fuori dal campo gestione della trasformazione epocale del Napoli per me è stato un fenomeno nel rapporto con la città nella comunicazione nel campo io non ho mai visto una squadra che difendeva attaccava in dieci sempre è vero c'è quella famosa azione di Sassuolo di Sassuolo Napoli infatti la difficoltà sarà resistere ai momenti di difficoltà scusate il gioco di parole perché appena non vinci la partita ovviamente ci sarà la nostalgia di Spalletti se non fosse andato via se non l'avesse fatto partire se il presidente l'avesse convinto però fa parte del calcio è così io non sono stato a Di Maro però sono sicuro vabbè anche se ci fossi stato non avrei assistito probabilmente a quel dialogo sono sicuro che De La Vrentis in uno dei colloqui con Garcia gli avrà detto devi cercare di far giocare di più raspadori probabilmente da quello che so io lui proprio vuole tu lo sai il suo storico cruccio quello di non pagare gente che gioca poco cioè lui ti ricorda la panchina lunga lui farebbe il calcio all'americana con i tre tempi con i cinque sei cambi a tempo quindi non solo raspadori però ovviamente raspadori parlando a livello aziendale è un asset che deve valorizzare di più infatti secondo me anche la tranquillità nel dire allozzano se non fai quello che devi fare vai fuori rosa c'è anche la possibilità di piazzare raspadori a destra come ha fatto con la spalla il resto lui nel finale di campionato con Spalletti con le partite già a scudetta acquisito ha giocato infatti ma anche Spalletti ha tentato con vari esperimenti anche in Turchia di trovare una formula per poter far giocare raspadori inventandosi un po' il ruolo della Francia nei mondiali di Griezmann esperimenti che però poi non hanno dato risultati diciamo estremamente positivi secondo te invece raspadori a destra può giocare per me nei tre ruoli d'attacco li può fare tutti e tre lui ama anche in fase passiva però garantendo alla Montella io sono d'accordo su questa visione però io ho la sensazione che con raspadori bisognerebbe giocare poi col 4-2-3-1 snaturando forse un po' la squadra col 4-3-3 diventa un po' più difficile perché raspa forse rispetto a Politano e Lozano garantisce meno in fase passiva devi strutturarti di squadra lui è uno generoso raspadori è uno che dice là tantissimo poi si accentra hai visto devi strutturarti di squadra magari lavorare con Di Lorenzo un po' più bloccato devi rivedere un po' certi meccanismi certi meccanismi però lo può fare ovviamente te lo fa non andando in ampiezza te lo fa prendendo dentro al campo e arrivando al tiro perché poi quello è raspadori cioè anzi raspadori è uno che deve trovare il modo di fare assisto goal cioè quello non è uno di costruzione del gioco come Politano no? che ti viene in conto e ti fa la palla in verticale a Roma per me è uno dei goal che cambia la stagione sono due o tre Raspadori Spezia Osman Roma Simeone Roma e Quaraschere Atalanta poi Raspadori Juve è la storia ma lo vincevi lo stesso no quella è la firma Raspadori con Lecce l'hai detto Raspadori Spezia sì sì no io aggiungerei anche quello con Lecce in caso il Parigi no scusa con lo Spezia quello è per me fondamentale perché se non vinci quella partita si torna a dire si aprono un sacco di problemi ecco qua tra una Liverpool e poi sempre lo stesso le piccole e si entra in una ovviamente un altro che cambia la stagione è Simeone a Milano con il Milan sì 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 quello è un altro goal importante perché quello ti dà una slancio ma quello con lo Spezia davvero mise in silenzio tutta una serie di discussioni polemiche che sarebbero solte esatto sì intanto Gaetano bucò quel pallone che arriva poi a Raspadori che fece tutto sì quella è la dimostrazione che quest'anno si sono allineati i pianeti esatto cioè oltre ai meriti del Napoli e tutto il calcio è fatto di queste cose la famosa buona stella di Murigno che è stata tanta criticata perché siamo un po' per Malusi come la sindrome di accerchiamento sentiamo tutti contro il Napoli contro i napoletani ce l'abbiamo pochettino per me aveva ragione sinceramente è una cosa vera è un dono di fatto perché poi non so quante volte ti capita che Simeone fa la finta smulling c'è a bocca all'incrocio oppure mi ricordo il primo primissimi minuti Kim fa un grande recupero rinvia un po' sbilengo la palla finisce di poco fuori magari in tanti altri anni del Napoli che ho visto io lasciva la clamorosa autorete stile guangesus con lo spezia per intenderci no e poi basta poco per cambiarti le cose vedi a Lecce devi vincere per forza perché dopo il 4 a 0 quando ti danno un segnale si capita l'autorete al favore ma non è per perché chi conosce il calcio sa che tu ci metti tutto il tuo poi c'è bisogno della spinta della fortuna che ti aiuta che per esempio non capito all'anno ai 91 punti oltretutto quello che è accaduto perché per esempio 5 volte 0 a 0 una volta va dentro un pallone stile da Spadori con lo spezia e la basta due punti in più perché poi nel giochetto dei punti alla fine hai tutta un'altra forza nella battaglia con la Juventus che punto a punto c'è complicata di suo quindi questo non ci offendiamo se ci dicono che un po' si sono allineati i pianeti anche la sosta mondiale tutta una serie di 5 giocatori soli al mondiale del Napoli con nazionali che sono andati quasi tutti quanti a casa molto velocemente sono tutti gli altri che Girute Hernandez Lautaro quanti hanno fatto il mondiale fino alla fine per vincere soprattutto se non sei di quelle tre ci vuole tutto e il Napoli questo hanno avuto tutto Morigno può ben dirlo perché anche lui ne ha beneficiato nell'anno del triplete ad esempio ma lui lo diceva come quello che con gli occhi di chi sa che l'avverte la riconosce e non l'ha detto per sminuire sia chiaro l'anno del triplete ha avuto di tutto di più all'epoca poi non c'era il VAR quindi nella fortuna e nella fortuna si collegavano anche quelli in fuorigioco dietro ai arbitrali quella famosa sciocchezza che poi si riequilibravano a fine stagione che è una delle più grandi sciocchezze che abbia mai sentito nella mia vita quella lì sembrava quando vuoi convincere un bambino a non fare una cosa e che poi magari gli prometti qualche altra cosa dopo uguale non c'è mai creduto nessuno a quella cosa spiegato dal tifoso e la regina che l'errore dell'arbitrale si riequilibra con la Juventus di quegli anni è così Ciro mi hai stuzzicato quando hai parlato del tifoso napoletano che è un po' permaloso eccetera ma secondo te davvero c'è ancora un nord che che vede negativamente il Napoli campione d'Italia allora questa cerco di farla un po' particolare l'Italia è un paese diseguale che per storia non è unito completamente a livello di equilibri basta pensare che i principali tv e i principali giornali nessuno a Napoli storicamente all'epoca ci fu il mattino che rappresentava la città rappresenta ancora però i grandi quelli che spostano l'opinione nazionale nessuno a Napoli no infatti il mattino è stato il giornale del sud sicuramente con una tiratura elevatissima in un certo periodo negli anni 80 però a livello nazionale non può essere paragonato alle altre di base al Corriere della Sera esatto quindi di base infatti ti ho detto cerca di articolarla bene di base non avrai mai lo stesso racconto che c'è per il Napoli che c'è per le altre squadre hai mai visto una squadra campione d'Italia che diventa storicamente quest'estate terza quarta notizia no no infatti però non è come 20-30 anni fa sia perché il paese è un po' cambiato sia per me del Napoli perché De Laurentiis ha vinto anche in Lega di uno potente uno forte ha preso il Bari anche uno che va a parlare lui per i diritti televisivi nella situazione di quest'anno c'è stato anche un rispetto per il Napoli in Italia poi in Europa l'hanno pagata Caramara perché in Europa poi ci sono altri equilibri e lì magari dire qualcosa in meno sulla UEFA poteva essere utile però in Italia nel tutti i pianeti che si sono allineati io non ricordo un errore arbitrale impressionante che ti rimane in mente no? in campionato quest'anno contro il Napoli ma perché il Napoli è stato così forte che alla fine anche gli episodi arbitrali non hanno influito sul verdetto perché il Napoli l'ha vinto il campionato a gennaio dai subito dopo la sconfitta con l'Inter si è ripreso e lì si è capito che era l'anno del Napoli sì però anche il Napoli 91 punti era fortissimo però però sai io in un testa a testa non so esatto se ci fosse stato anche quest'anno un testa a testa c'è uno clamoroso che dimostra la verità di quello che tu stai dicendo che è Gatti su Quaraschelia a primo tempo di Juve Napoli che dimostra che è incredibile cioè come si fa a non vedere un fallo che dimostra che se fosse stato appunto a punto tranquilli tranquilli non saremmo stati sicuramente però ti stavo dicendo e non è più come come un tempo come un tempo l'Italia è sempre quella i equilibri nazionali cioè andiamo anche oltre il calcio socioculturali sono sempre quelli la maggior parte delle testate nazionali hanno come principale pubblico i tifosi di altre squadre ci prende amici vabbè ma perché si tiene conto della classifica quali sono i tifosi più numerosi in Italia Juventus Milan Inter e quindi noi parliamo di queste tre però il Napoli è riuscito a far parlare di sé molto più di quanto se ne faceva all'epoca eccetto gli anni di Maradona dove io il 25 novembre 2020 ho capito quello che mi dicevate voi dicendo che aveva portato Napoli al centro del mondo perché è venuto di chiunque e immagino all'epoca che era sette anni come quei giorni maledetti intorno al 25 novembre ovviamente la stampa il giornalismo era completamente diverso da quello di oggi ma proprio come organizzazione c'erano meno giornali forse no c'erano più giornali ma non c'erano i siti per esempio e quindi la tecnologia era diversa anche la stampa o per dire il giorno doveva inviare un proprio giornalista a Napoli per seguire l'evento per esempio forse è diverso nel mondo che cambia c'è anche questo no perché oggi tu la comunicazione è diffusa quindi tu oggi tu puoi anche mettere il Napoli come terza notizia però magari che ti devo dire sono dieci youtuber che parlano nel Napoli tutti i giorni riescono a poi lasciamo stare il modo però ti dico il flusso di notizie non è più soltanto quindi tu la senti di meno questa pressione e infatti secondo me oggi sulla bilancio c'è più una sindrome di accerchiamento che è dovuta ai tanti anni in cui hai vissuto questa pressione ancora più forte rispetto ad oggi che effettivo per esempio la festa scudetto secondo me è stata raccontata alla grande da tutti e io lo ricordo anche perché è la più bella la più intensa la più sentita degli ultimi 30 anni se la gioca probabilmente solo con la Roma e con la Roma però non possiamo lamentarci assolutamente di quando anche degli spazi anche degli spazi ci sono tv che si sono trasferite qui per una settimana quello ti fa capire che il mondo è un po' cambiato fortunatamente rispetto a prima tu hai iniziato con i siti sì io non ci devo ancora lo so I'm Naples hai iniziato quindi proprio in maniera autonoma facendo nascere un sito e da lì hai mosso i primi passi io vabbè prima di tutto al di là che c'è tuo padre ho collaborato con il Corriere del Pallone che è un giornale che esiste ancora bisettimanale che fa di tutto dal Napoli all'intersociale il settore giovanile e tutto nel 2010 circa mi chiama il mio compagno di banco delle superiori che mi dice ma che non facciamo un sito ce ne sono 40 rispondo io come si chiama il tuo compagno Francesco Cortese ce ne sono 40 rispondo io e lei mi dice si ma tu lo puoi fare meglio degli altri mi voleva bene mi voleva bene diciamo e dico bah nasce come uno sfizio tanto è vero che il nome a livello di posizionamento google è un disastro però era uno sfizio perché nel Napoli tornava in Europa generazione tu non puoi capire ben di carta troppo anglofone anglofono come per la generazione tu non puoi capire ben di carbone tornare in Europa non è una cosa scontata come si chiama il sito diciamo allora dice diciamo al mondo che Napoli è tornato in Europa e I am naples.it ha sempre avuto la passione di raccontare il settore giovanile quindi provato a farlo conoscere attraverso quello perché poi sotto il profilo del tecnico del posizionamento google dei social imparagonabile competere con tutto Napoli calcina quelli più seguiti e allora e poi piano piano è diventata una vetrina anche per me il sito chilometro dopo scarpa consumata dopo scarpa consumata abbiamo riuscito a fare un po' di cose nasce così e sono una tante delle collaborazioni su tutte quelle che citavi tu prima nel correre della sera correre del mezzogiorno però io proprio veramente da da ci siamo tuffati senza sapere nulla imparando sul campo anche tutte le cose che viste da fuori può sembrare facile fare un sito gestirlo monitorare la parte tecnica fare in modo che si diffonda i social google è un'azienda c'è e poi essere sempre presenti essere sempre presenti poi c'è il lato giornalistico che non è un dettaglio però già solo tutta la parte per farlo vivere per farlo esistere il sito è già una cosa complicata tu ti sei mai sentito dire vabbè ma tanto tu al computer fai tutto in tre minuti è quello si risolve tutto quanto il cugino del cugino esatto come no è un classico però poi alla lunga si vede il risultato tra chi si vede cosa paga veramente si si tra chi lo fa veramente chi invece lo fa diciamo per perdere il tempo come hobby che è poi la grande differenza secondo me che si vede tutti i giorni nel nostro mondo così ampio e complicato ma c'erano tanti siti a Di Maro eh sì sì tante testate giornalistiche forse ha raggiunto il massimo sì io li capisco li capisco molti fanno i fenomeni da qua no quanta gente effettivamente il Napoli Antonio Balasco il fotografo lo conosce anche se quel Napoli è andato a seguire l'Ipsi a due giorni sai quanti accreditati c'erano 6 sai quanti c'erano a Di Maro 115 115 l'Ipsi fa la Champions League da Red Bull stiamo parlando ma secondo me se vai a vedere anche il Bayern Monaco non ha la stessa tanti anni fa di accreditati c'era Mazzarri si fece un amichevole ad Arco di Trento Napoli-Bayer-Monaco che fu anche il primo gol di Insigne con la maglia del Napoli e Rummenighe parlando con l'Ipsi ma quante gente c'è Rummenighe stiamo parlando quindi però li capisco perché a livello professionale perché la quantità di contenuti che puoi fare a Di Maro anche dove c'è un ufficio stampa che ti aiuta a fare tutte le cose seguire gli allenamenti una cosa che o le fai lì o le fai più durante l'anno quindi ti stimola di andare di organizzarti di trovare gli sponsor di sostenerti economicamente perché effettivamente tra campo rapporto con i tifosi cioè la presentazione c'erano più di 6.000 tifosi è vero tu quant'è che puoi avere a che fare con tanti tifosi nel Napoli a livello concreto reale che poi tutta la bellezza del virtuale tutto quello che vogliono però io sono ancora convinto che il contatto faccia a faccia il dialogo di persona sia un'altra cosa rispetto a a parlare con i messaggi sui social e quindi io capisco che ci sia questa ma Cassisano sarà uguale mi dicono 130 ancora di più probabilmente perché più vicino eh beh certo ci saranno tanti tanti napoletani del capoluogo ti voglio fare una domanda ora di quelle toste alla presentazione ufficiale a Di Maro Osimen c'era sì alla prima di campionato a Frosinone no per me ci sarà per me ci sarà il Napoli non lo vuole sei sicuro? ti sbilanci ah sicuro non c'è niente però ti dico se tu mi dici secondo te lo punteresti un euro io lo punterai sul ci sarà perché per me se il Napoli avesse dovuto venderlo avrebbe fatto la vita è chiara no? tu hai un obiettivo e fa una strategia se lo vuoi vendere invece di 180 200 il duecentino no? metti 100-110 l'avresti già venduto è certo invece di provare a parlare col procuratore per fare il rinnovo parli col procuratore anche senza farlo vedi lì e lavori sulle offerte cerchi già il sostituto in maniera insistente e invece fai tutt'altro poi ovviamente lalli lall gli offre 300 milioni al Napoli 50 stagioni a lui e lui si fa ingolosire il denaro io non credo perché in Arabia ci sta andando giocatori di fascia media cioè quelli che hanno fatto già la loro vita lo stesso Melinkovic Savic a 29-28 anni si poteva fare ancora ma il grosso l'ha fatto Verratti il grosso l'ha fatto ma Mbappé esce fuori dal contesto però non ci va Zierischi è una da apprezzare non ci è andato quindi il giorno in cui questi perdono anche Mbappé o l'andiosimento meglio che chiudiamo sinceramente quindi tu dici se dovesse arrivare il mondo cioè tu stai dicendo se dovesse arrivare una proposta dall'Arabia ad Osimendi 300 milioni lui rifiuterebbe non credo che ci vada però se il peso dice perde Mbappé non potrebbe poi il valzer degli attori quello questa forse è la probabilità quella è la probabilità più forte secondo me però io non credo che il Paris Saint Germain riesca a piazzare Mbappé perché l'Arabia non ci va perché Real Madrid secondo me non tirerà fuori quando può prendere ormai ha strutturato il progetto dipende dal parametro ci aspetta un anno certo si apre una bella guerra tra il Paris Saint Germain e Mbappé e poi non sono neanche convinto che il Paris Saint Germain voglia spendere tutti questi soldi per Osimendi per Osimendi soprattutto questa penso che sia la chiave di lettura giusta li vedo su altri attaccanti Harry Kane Blauvic hanno provato a prendere Oilund che è prima andato allo Manchester United eh sì Oilund quindi diciamo che la strada sembra tracciata verso la permanenza sarà difficile riuscire a fargli rinnovare il contratto quella però io l'impressione che ho io è che Della Lorenza l'abbia posto come priorità assoluta dell'estate il nuovo video Simento dicendo io metto a posto Simento metto a posto Guarda Scher metto a posto Zierischi di Lorenzo Mario Rui eccetera 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 e il Napoli ha fatto più rinnovo in questi 6-7 mesi in tutta la sua vita meretta anche il salo botca e quindi credo che metta a posto tutto questo e poi vada sul difensore e sul centrocampista considerando che però per me l'arco della fine del ritiro di Casteldi Sanglo il difensore debba arrivare e arriverà seguendo anche quello che diceva della presentazione chi vorresti che arrivasse come difensore guarda io ti dico lo conosco meno rispetto a quelli che giovano in Italia però sono sempre convinto che se il Napoli prende la prima scelta è sempre meglio per tutti quindi come fu per chi no Kilman ah Kilman assolutamente sono d'accordo sì perché Kilman nel nel nei loro nel loro idea già da mesi probabilmente se della Lorenzo avesse deciso di chiuderlo prima avendo la consapevolezza assoluta che Kim sarebbe andato via mancava solo da capire chi la pagava questa clausola ma lo sapevamo tutti che sarebbe andato via era impensabile che una clausola così invitante non trovasse tra Bayern Monaco Manchester United queste squadre qui un acquirente probabilmente l'avrebbe già chiuso l'operazione però il World Warhampton sta cedendo ha problemi col frepple finanziario ho l'impressione chiedere anche delle parole di Lopeteghi ad un podcast tra l'altro in Inghilterra è più diffusa come forma diceva abbiamo già venduto la sensazione che il club voglia vendere ancora quindi secondo me il Napoli si aggiano sul tempo cercando di facendo passare tempo di abbassare il prezzo la richiesta la richiesta di 40 milioni del World Warhampton poi lui essendo inglese rientra anche nella nuova regola dei comunità è anche ucraino il Napoli ha due posti tutti e due i posti grazie alla gestione di Chino però conoscendo dell'Aurentis che ha trattato la mercati giapponese coreano sudamericano avere un'altra possibilità male non fa perché poi ci sono tante situazioni che si possono sviluppare tra l'altro è sinistro Kilman usa il sinistro c'ha un lancio tra l'altro lungo perfetto che potrebbe essere un'occasione per Rosimena esatto tra l'altro ha giocato anche su col calcio 5 lui il Wolverhampton l'ha preso da una squadra di terza serie made need una cosa del genere è anche una bella percentuale sulla futura rivendita questa squadra infatti anche per quello tengono il prezzo alto eh sì indubbiamente uno di quei giganti che potrebbero fare molto bene nel campionato italiano secondo te proprio in virtù di tutti questi rinnovi e di eventuali arrivi che ci saranno sicuramente De Laurentiis ha scelto quella data 12 agosto per dire dove arriverà il Napoli sì ma a me sto fatto dove arriverà arrivare non è che mi interessa cosa città sì lo so Ciro ma anche a me però sai perché te la faccio questa domanda perché invece tra i tifosi non hai idea è come se ha dato un appuntamento praticamente c'è una un'attesa spasmodica il 12 agosto mi sembra Sim Salabim oppure sai apre la busta ed esce il Napoli ha vinto ha vinto la Champions League oppure il quarto scudetto e mi interessa molto di più che in virtù di quello che dirà e di quello che avrà fatto soprattutto capiremo che squadra ha il Napoli ed è quello che vuole dire anche De Laurentiis in effetti e non è che ogni anno lui dice l'oracolo si deve mettere d'accordo perché lui non disse che il Napoli faremo di tutto per riportare esatto per riportare poi dopo le parole precise che è diverso a dire il Napoli vincere allo scudetto se non ci riusciremo poi certo che a Napoli una frase del genere non ha abbordata ma in quel periodo si misero a ridere tutti posso dirlo anche io di quella frase che non fu neanche la portata non fu recepita perché nessuno c'è proprio che ha detto sì esatto ma perché era il momento il momento era così particolare si viveva nel pessimismo cosmico che ti sembrava assurda ma se tu vai a riflettere sulle parole ponderando proprio le parole ti rendi conto che ha detto una cosa che ci poteva stare da visione societaria tenendo conto del risultato del Napoli nell'arco degli ultimi anni io mi ricordo la prova di mano lui qualche anno fa mi sembra ci fosse Ancelotti in una domenica Ancelotti Ancelotti disse anche di più basta più esatto lui disse ho bisogno di vincere che tra c'era una grandissima verità perché lui aveva bisogno di vincere per una discorso che facevamo prima quindi non era la prima volta non hai ragione Ancelotti si sbilanciò tantissimo tanto è vero che poi noi l'abbiamo fatto anche notare forse abituato ad altre squadre lui forse si è lanciato un po' troppo in avanti con il Napoli però poi alla luce di quello che è successo possiamo dire che anche Ancelotti aveva visto bene nella scelta Napoli sì assolutamente per me è un matrimonio che non ha funzionato ma non bisogna fare la colpa né a uno né all'altro il calcio capita per me il Napoli ha bisogno di allenatori che hanno la mentalità di elevare col lavoro il materiale umano a disposizione questo è poco non di allenatori che puntano attraverso il mercato che poi per me con la gestione dell'errore che fa la Roma con Murigno che l'ha coperto tra lo stadio tutto esaurito la coppa vinta e la coppa sfiorata ha coperto un po' ma se andiamo a vedere poi la sostanza del lavoro fatto di come gioca la squadra e quant'altro io vedo lo stesso errore che fece il Napoli con Ancelotti Ciro sono perfettamente d'accordo con te e bisogna dare atto alla Lazio che con la scelta Sarri invece sta ottenendo probabilmente dei risultati migliori e l'anno prossimo chi ti dice che se dovesse azzecare come ha fatto il Napoli qualche acquisto giusto possa addirittura diventare una delle pretendenti allo scudetto? Sì sempre come gestisce la Champions che poi lo sappiamo Sarri come fa anche quest'anno ha fatto delle figure barbine in Europa il 5 a 1 con Midi Holland l'uscita alla Conference molto presto perché poi lui quando non ha una squadra fortissima si concentra su un obiettivo si concentra su un obiettivo se dovessero allinearsi i pianeti prima è un campionato come questo molto equilibrato per me neanche stavolta ci sarà un padrone molto incerto fortunatamente dopo 9 anni di dittatura quindi tu pensi che il Napoli con Osimena sia da scudetto ma non da ammazza campionato per me no per me ammazza campionato e si è creata una serie di situazioni che per me il Napoli sono quelle che hai già è da alta classifica poi in base a tutte ci sono molte variabili c'è la Coppa d'Africa quest'anno il Napoli fa quattro competizioni la Final Four di Supercoppa a un certo punto a gennaio va a fare alta temperatura proprio a cambiare allenatore a cambiare allenatore direttore sportivo difensore centrale preparatore a tre preparatore a tre speriamo che finisca qui bisogna andarci cauti anche perché già la città si aspetta che in automatico tu hai vinto tra Tieno e Simeone sei più forte degli altri come se fosse un sillogismo e quindi vinci vincere è complicato il resto 33 anni non si è vinto lo scudetto un motivo ci deve frustare per me se il Napoli fa un bel campionato d'alta classifica compete per lo scudetto fa bene magari vincendo una delle due coppie coppie tale da Supercoppa e fa un bel percorso in Champions League a scatola giusta oggi ne sarei felicissimo visto tutto quello che è accaduto poi mi rendo conto che un discorso del genere è impopolare perché il tifoso vuole vincere e basta ci ha preso anche gusto ora però io mi auguro che vinci 35 di fila però sapendo come va il mondo ci sono tante insidie nella prossima stagione da gestire non sarà facile e secondo te da chi ci dobbiamo guardare rispetto alle altre squadre dal Milan dall'Inter l'Inter per me è sempre forte ma il grado Lukaku e Dzeko il professor Duram vediamo chi prende davanti ha una struttura tattica consolidata ha dei giocatori forti su cui impostare la squadra Barella Celanoglu Lautaro sarà sempre forte niente di straordinario per me non è il livello a tantissimo anzi il livello il Milan potrebbe fare come il Napoli l'anno scorso dipende dagli acquisti farle partire a uno prendendo i cinque forti e costruire una squadra diversa che magari si allinea e fa più di quello che dovrebbe fare tra l'altro una squadra molto più a misura di Pioli rispetto a quella dell'anno scorso la Lazio lo dicevi tu prima la Roma io finché c'è Mourinho ci credo poco per il campionato perché per il campionato devi costruire una squadra che gioca bene che alza il livello che sempre soprattutto per gli acquisti non che ti fa 7-8 partite buone sì ma poi soprattutto per gli acquisti quindi la Juventus senza le Coppe bisogna stare sempre attenti sempre attenti qualche giocatore forte ce l'avrà sempre basta pensare già ora a Rabiot Vlaovic Ciesa Bremer Scesni scusate se è poco poi Allegri ha avuto la capacità Allegri è un grandissimo comunicatore ha avuto la capacità di far passare quella squadra come mediocre ha avuto la capacità nel club in cui vincere l'unica cosa che conta è far passare l'idea che il quarto posto è un successo è una cosa spendendo l'anno prima di questo 2021-2022 a gennaio un attimo 80 milioni per un centro avanti però la squadra è forte di base quindi la Juventus senza le Coppe perché così credo che andrà a finire è sempre un pericolo ad acquistare attenti anche se all'anno zero anche lì con Giuntoli rapporto giuntoli a proposito di Giuntoli che cosa perde il Napoli cosa guadagna la Juventus con Giuntoli il Napoli perde un dirigente che è stato importante tra burrasche rapporti di amore e odio la gestione delle burrasche è stato importante lavoro quotidiano di grande personalità quindi dovrà avere un altro modo di gestirsi dovrà venire fuori bene Garzia su questo magari con il supporto di Meluso perché non è di Pompilio per esempio la permanenza di Pompilio secondo me è importantissima non è un fatto strano i due sembravano inseparabili Pompilio e Giuntoli e invece uno rimane a Napoli l'altro va via sì e il Napoli ce ne guadagna perché porta dentro un dirigente che ha poco da ingraziarsi della Orentis perché ormai secondo me lo sa che è difficile che rimarrà a lungo a meno che la vita si è vista di tutto però è libero può dire tranquillamente la sua che conosce il metodo di lavoro che ha una visione complessiva delle cose quindi può essere la Juventus ci guadagna uno dei migliori dirigenti del calcio italiano secondo me perché ha dimostrato a Napoli ha saputo fare tutto ha saputo gestire la Orentis ha saputo costruire rapporti con allenatori forti Sarri e Spalletti che è andata male con Ancelotti a parte anche lui degli errori da fatti si dice che sia stato il principale artefice dell'esonero di Ancelotti giuntoli non lo so per me il principale artefice dell'esonero è stato Ancelotti sinceramente però perché però sicuramente però è stato sempre esonerato dopo una Champions giocata ho capito che ricordo come era in campionato no no me lo ricordo perfettamente mi ricordo perfettamente non ho mai visto Ancelotti protestare nei confronti degli arbitri me ne ero abituato anche se io ricordo uno degli scandali del calcio italiano c'era lui sulla panchiera del Parma il gol di Cannavaro in Juventus Parma di Calciopoli quindi lui Calciopoli la conosce bene però erano anni ormai che aveva dimenticato cosa fosse stata la parte dei 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 delle vittime sì quindi però giuntoli sicuramente a distanza di anni secondo me avrebbe gradito una continuità filosofica concettuale tattica con Sarri sia un allenatore di provincia ma lì è stato un errore è stato un errore perché si è cercato di cancellare Sarri dalla testa dei tifosi portando un nome e questa volta secondo me ha capito anche la lezione è partito da un normalizzatore uno che non si inventa nulla che gestisce quello che ha e ci mette il suo gradualmente nel corso della stagione ebbè questa stagione la stagione passata è stata secondo me fondamentale perché poi bisogna anche ricordare che nel pieno della bufera nel massimo delle critiche il presidente ha avuto comunque il coraggio di andare avanti per la sua strada mandando via Insigne Coulibaly e tutto il resto acquistando dei giocatori che poi sono stati assi nella manica quella che studiata è preparata sì sì anzi forse era stata anche ritardata per motivi legati al covid sì sì cioè Kim Quaraschella i suoi giocatori che il Napoli seguiva da tempo sì sì quindi è stata studiata preparata costruita non è il coraggio ce l'hai perché eri consapevole di quello che avevi anche gli uomini di campo che ti spingevano a farlo perché voleva una frase che girava spesso nel Napoli era tu vuoi essere felice d'estate o d'inverno d'estate se avesse potuto essere felice d'estate rinnovava Mertens prendeva Di Bala faceva lo scambio Ronaldo Simen sì penso ci volevano sette Napoli per contenere l'entusiasmo però per me a ottobre novembre c'è la fine dell'ammutinamento uguale esatto e invece hanno fatto fortunatamente la scelta di essere felici il 4 maggio non di essere felici a luglio agosto anzi il primo coro a Verona è stato tu non sei il mio presidente sì prima giornata me lo ricordo me lo ricordo si fa sorridere questa questa escalation e hanno avuto ragione loro su tutto sì e a Verona non erano ancora arrivati Simeone e Raspadori Simeone era in albergo a Napoli aspettando di essere che poi era proprio Verona a Napoli quindi lo tennero un po' nascosto chissà per questo e poi non era ancora arrivato anche Raspadori no no Raspadori arriva la settimana dopo addirittura mi sembra dopo la seconda di campionato inaspettato perché tutti pensavano che non avrebbe mai speso tutti quei soldi dell'Aurentis per un calciatore che sulla carta era un extra sempre perché c'è pregiudizio a Napoli quando c'è da criticare ho detto la comunicazione ma a Napoli c'è un pregiudizio che sta cosa che lui non spende no non è vero anche il fatto che questo mito che lui vende lui per vendere un calciatore gli devono toccare proprio il fede è vero hai ragione ha rifiutato 104 milioni da United per Coulibaly e 100 dal Chelsea esatto per Coulibaly anche Amsic con un tormento la cessione di ah la famosa storia di Allan che per me se vende Allan la mutilamento bravissima non accadeva lui è il contrario di quello che usai usai al Chelsea il dolore della clausola di Guain tant'è vero ha tolto l'idea che la clausola potesse essere valida per l'Italia lui per me lo scudetto gli è servito per fare la reddazione ma lui si è saputo raccontare male se stesso perché non è possibile che abbia avuto in questi anni una narrazione che non corrisponde alla realtà sulla comunicazione sullo scarso investimento sul settore giovanile tutte critiche giustissime ma non si può raccontare quello che è stato fatto per anni che qui voleva spendere poco nulla da dire nulla da dire no no ma lì è come hai detto tu la comunicazione che è sbagliata perché altrimenti avrebbe raccolto molto di più dal punto di vista personale dei Laurentiis un'ultima cosa Ciro perché siamo arrivati quasi in conclusione hai parlato del settore giovanile scarsi investimenti e anche a livello patrimoniale dei Laurentiis non usiamo il termine dei titoli non caccia un euro per stadio per Castelvolturo lo stadio ha trovato la strada tramite le istituzioni vorrebbe il suo sogno la convenzione a 99 anni esatto la gestione a 99 anni ma fa parte di una strategia visto che in Italia si sta lavorando un po' il sindaco sì no per me lo stadio lo stadio il suo piano europeo 2032 esatto con lo stadio ristrutturato per lui che magari lo gestisce se investe lo investe per farci le cose che poi gli tornano ma in Italia molto spesso funziona così è difficile che trovi club che la Juventus ma la Juventus si può parlare con la forza la Juventus indubbiamente detto sullo stadio lo capisco poi conta il risultato oggi il Maradona già è molto più presentabile sicuramente rispetto a quello che almeno come colpo d'occhio estetico non c'è paragono ma anche strutture interne comincia a migliorare poi è sempre una casa su cui si sono fatti lavori dentro che probabilmente andava a buttare giù e ricostruire però è un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto per tanti anni io non ricordo nel corso degli anni tanti interventi cioè dal 90 a De Laurentiis non si sia fatto nulla a mia memoria è vero è verissimo detto questo a me dispiace sul centro sportivo strutture per le giovanili lì per me si potrebbe fare qualcosa in più ma a mio avviso lui vuole una società liquida liquida comincia ad avere anche un'età lui quindi sa che non cioè che se dovesse farla in via va via tranquilli era radicato in città aveva però sai gli obiettivi erano diversi perché Ferlaino ovviamente non doveva lanciare non era un imprenditore di calcio come lo è De Laurentiis lui era ingegnere costruiva case e ha costruito mezza Napoli forse anche più di mezza Napoli quindi il Napoli era diciamo la chiave giusta per entrare nelle case giuste a Roma che quando è a Napoli si è in albergo esatto quindi guardiamo di tutta altra cosa lui il settore giovanile tra l'altro a livello aziendale economico a lui l'idea che devi aspettare dieci anni per farlo combattendo contra mille cose non va bene lui dice io preferisco spendere un milione milione e mezzo e prendere già già formato il giocatore anche perché facendo un discorso visto che questo è il Sud America d'Italia lui pur investendo poco ha tirato fuori e insigne Lorenzo insigne Roberto che comunque ha portato degli introiti Tutino Maiello Izzo Ciano Gaetano Gaetano ora che in prima squadra quindi comunque nonostante tutto qualcosa ha portato a casa e hai parlato dei napoletani poi ci sono anche quelli di altre città Zanori per esempio Zerbin così e gli ha portato comunque qualcosa quindi se tu fai l'aggiornamento di soldi investiti e risultato ottenuto bastava già insigne insomma alla fine gli imprenditori puri che lavorano nel calcio possono ottenere consensi vincere e fare anche soldi sì però te la rendi sei unico perché ogni tanto anche nelle categorie minori qualcuno che pensa di fare non è che dice ah io oggi faccio come De Laurentiis perché ci vuole Ciavelli alle spalle ci vuole una struttura un'esperienza nel cinema fa impresa penso da 40 anni forse anche di più forse 50 anni quindi non è non è imitabile De Laurentiis anche è un motivo molto chiaro nel tutto il calcio italiano solo lui ha un'impresa che funziona così un po' gli assomigli alla Lazio di Lo Tito ma ci sono delle differenze anche lì anche Lo Tito ha migliorato la struttura lì ha fatto il centro a Formello e quant'altro vedi commisso che è amico suo ha fatto il Viola Park quindi un'altra mentalità se solo lui è così il motivo è che è un modello unico difficilmente replicabile altrove a mio avviso insomma sono io il vostro Cavani funziona eh sì è sotto gli occhi di tutti ci sono il tre dappertutto se hai qualche dubbio vedi tre e dici ha funzionato se mi avessero detto un giorno che nell'estate in cui ha abbassato di più il Montengaggi il Napoli avrebbe vinto uno scudetti e avrei chiamato tutti i 112 113 118 bisogna dire che ha sovvertito un po' tutte le leggi del calcio ha vinto lui ora deve essere bravo però che non è facile a mantenere non significa vincere tutti gli anni significa avere un rapporto con la città funzionale dove in cui rispetta e viene rispettato perché in questi anni è stato poco rispettato ingiustamente ma anche lui a volte non ha rispettato diciamo che ci ha messo anche del suo per non farsi rispettare a volte sì c'è stata una guerra stupida esatto infatti che non portava a nulla molti pensavano chissà quale torbo di interesse ci fosse questa cosa in realtà era una guerra ideologica di pensiero di posizioni radicate vabbè forse anche dettata dal carattere di una persona che è fatta così insomma con i suoi pregi e i suoi difetti perché poi nessuno è perfetto a volte ci sono dei geni della musica che però sono intrattabili nella vita privata sì assolutamente e ci sono portati dietro poi sai tu quando una cosa non la metti a posto subito è uno e due e tre e quattro e cinque diventano sempre peggio poi lui è bravo in questo ci mette due giorni a recuperare vent'anni di guerre complimenti per questo perché ha costruito di nuovo oggi ci ha dato tutto quello che abbiamo sognato per anni Napoli-Saharanitana anche se non è andata come doveva andare è stato un po' il 10 maggio 87 quando ho visto lo Stato finalmente l'ho visto dal vivo con tutte quelle bandiere con tutti quei cori esatto è una cosa che ti rimarranno tutta la vita è vero anche io ho rivisto le scene del primo e del secondo scudetto in quel momento siamo arrivati in conclusione l'ultimissima proprio a Castel di Sangro ti aspetti l'annuncio di un nuovo acquisto del Napoli? sì per forza Castel di Sangro finisce a sette giorni dal campionato io il difensore credo che arriverà a Castel di Sangro un altro volta anche bene conoscendo laurenti arriva a Kim l'anno scorso a Castel di Sangro io un pensiero a questa scaramanzia ce lo farei diciamo visto come è andata con Kim quindi io mi aspetto non so il centrocampista perché ho l'impressione che il centrocampista arriverà con la formula prestito che ogni anno la fa Bakayoko Anghissan Don Belè i tre ci sono titolari quindi devi trovare le tre c'è anche Elmas poi bisogna capire come finisce la storia di Lozano quindi se poi prende un altro al suo posto la cosa principale che deve arrivare il prima possibile e valida è il difensore centrale al posto di Kim Ciro grazie grazie a voi è stato un piacere alla prossima buone vacanze ma date un occhio ogni tanto a Solo per la Maglia perché qualche novità la troverete sicuramente ciao a tutti ci vediamo presto solo per la Maglia